C'è un traffico in questo finale, ma penso sia l'elicottero, l'elicottero, l'elicottero l'elicottero c'ha le barri, c'ha l'elicottero, l'elicottero c'ha le barri, c'ha l'elicottero Non si fa questonicas, c'è un paese, un'amichottero, l'elicottero, l'elicottero Ma il prezzo non ci sono, non ci sono, non c'è un'amichottero Sono una chiere, hanno declassato, un'è per venti di un progetto In questa parte, ma non c'è Non c'è un po' di stagione Grazie. 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 1-1-9-7-5-7-30. 1-2-9-7-0. Stao grazie. 1-1-9-7-3-0. Grazie. Grazie. E Pedu Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.